Gnocchi ripieni alla zucca. Benvenuti nel canale di Tavola Serena. Oggi andiamo a preparare questo primo piatto semplice ma gustosissimo. Iniziamo andando a creare quello che è l'impasto per gli gnocchi all'acqua che sono fatti semplicemente con farina e acqua. Però l'acqua e la farina andranno cotti quindi prima andiamo a versare l'acqua all'interno di una pentola. Aspettiamo che raggiunga quasi il bollore quindi quando vediamo le prime bollicine diciamo spegniamo aggiungiamo tutta la farina in un sol colpo. Io ho utilizzato la tipo 1 ma va bene anche la 0. Accendiamo ancora il fuoco giusto un paio di minuti mentre mescoliamo per far cuocere la farina. Quando l'impasto inizia ad addensarsi in questo modo spegniamo i fornelli, ci spostiamo sul pieno da lavoro e ci travasiamo sopra tutto l'impasto. Dobbiamo fare in modo che era freddi. Io l'ho comunque steso con le mani perché non era eccessivamente caldo ma ovviamente attendete che sia lavorabile. L'ho lavorato un pochino poi l'ho lasciato raffreddare qualche minuto, dopo di che l'ho ripreso e l'ho lavorato con le mani. Ho aggiunto anche poi un pizzico di farina per riuscire a lavorarlo meglio ed ottenere un impasto liscio. Quindi andiamo a impastarlo qualche minuto giusto al tempo di ottenere un bel panetto bello liscio. Non ci vuole tanto in più è molto morbido come impasto e quindi è semplicissima questa operazione. Sembra il pongo praticamente. Una volta che abbiamo ottenuto questo impasto quindi liscio e omogeneo lo facciamo raffreddare del tutto perché nel mio caso era ancora un po' tipido e nel frattempo ci dedichiamo a quello che è il ripieno. Possiamo farli ripieni con quello che vogliamo, formaggio, gorgonzola per esempio. Io ho scelto di fare il ripieno dei tortelli di zucca o quantomeno simile perché c'andrebbe anche la mostarda di mele e io non ce l'ho messa. Questo è il ripieno che utilizzano sul cremonese per quanto ne so in base ai parenti che ho lì. Quindi andiamo a prendere della polpa di zucca cotta, aggiungiamo del formaggio grattugiato, del sale, qualche amaretto sbriciolato con le mani e poi anche un pizzico di noce moscata. Viene un impasto piuttosto denso. Io la polpa di zucca l'ho tenuta cuocendo la zucca al vapore poi ricavando la zucca e frullandola con un goccio d'acqua di cottura ma in realtà potete ottenere la polpa anche cuocendo la zucca al forno, al microonde, nel tegame, come volete. L'importante è ottenere una polpa di zucca che non sia liquida. Andiamo poi a riprendere quello che è il nostro panetto che nel frattempo si è riposato e si è rilassato e raffreddato. Ne prendiamo un piccolo pezzo, stendiamo un bel po' di farina sul piano da lavoro altrimenti come vedete tende a appiccicare quindi abbondiamo con la farina e poi andiamo a stendere con il mattarello fino a uno spessore di circa 3 mm. Prendiamo poi il coppapasta e andiamo a ricavare tanti dischetti. Tutti gli ingredienti che ho utilizzato li trovate ricapitolati durante il video e invece nel box informazioni sotto al video trovate il link al mio blog dove trovate la ricetta stampabile completa di tutti gli ingredienti di tutti i passaggi ricapitolati con le immagini. Una volta che abbiamo ottenuto tutti questi dischetti la parte di pasta che è avanzata possiamo tranquillamente rimpastarla e ristenderla non ci sono problemi finché c'è pasta fate gnocchi non è un problema. Io poi ho scelto di chiuderli per comodità molto simili ai ravioli in questo modo ma in realtà potete anche chiuderli a pallina come volete. Io ho scelto di fare in questo modo perché è molto pratico e molto semplice. È come fare della pasta fatta in casa ma con l'impasto degli gnocchi. Tra l'altro è facilissimo perché si chiudono e si sigillano alla perfezione. L'impasto rimane comunque sempre un po' umido e sarà semplicissimo farli. Questa è la teglia che ho ottenuto io quindi una porzione bella abbondante sono anche molto sostanziosi sono anche molto grandi quindi quando ne avete qualcuno nel piatto siete già a bolla. Andiamo poi a far bollire l'acqua la saliamo e vi tuffiamo qualche gnocco alla volta quindi io ne ho cotti circa 10-15 per volta. Li tuffiamo nell'acqua e attendiamo che salgano a galla. Quando sono a galla li possiamo scolare perché vuol dire che sono pronti e io li ho tuffati direttamente in un ampio tegame dove avevo fatto sciogliere del burro con la salvia. Semplicissimo. Assomigliano tantissimo ai tortelli di zucca mantovani ma ovviamente non sono la stessa cosa. Andiamo poi a trasferire la nostra porzione nel piatto e veramente sono buonissimi, morbidissimi e il ripieno è davvero squisito. Io spero tanto che questo primo piatto vi sia piaciuto se è così lasciatemi un pollicino in su. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i futuri contenuti. Qui vi lascio un'altra ricetta sempre di un primo piatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!